Il concetto di Brahman è centrale nella religione induista ed è uno dei principi più complessi e profondi del pensiero filosofico indiano. Brahman è considerato l'assoluto, l'infinito, la realtà ultima e immutabile che sottostà a tutto l'universo. È il principio cosmico originario e il fondamento di tutta l'esistenza. Brahman è spesso descritto come eterno, non ha inizio né fine. Infinito, non è limitato da spazio o tempo. Impersonale, non ha forma né attributi specifici, rendendolo oltre ogni descrizione fisica, trascendente e immanente. Sebbene trascenda l'universo sensibile, è anche presente in ogni sua parte. In termini filosofici, Brahman è il concetto chiave nei testi delle Upanishad, che sono parte dei Veda, i testi sacri più antichi dell'induismo. Le Upanishad esplorano la natura di Brahman attraverso una serie di dialoghi e meditazioni. Riassumendo, possiamo individuare due concetti essenziali. Nirguna Brahman è Brahman senza attributi. È il puro essere, coscienza e beatitudine. Sat Chit Ananda non può essere descritto con parole umane e va oltre ogni concezione mentale. Saguna Brahman è Brahman con attributi. Per rendere Brahman comprensibile alla mente umana, viene personificato con qualità e spesso identificato con divinità specifiche come, ad esempio, Vishnu, Shiva o Devi. Brahman è dunque il cuore dell'induismo, una realtà trascendente che unifica tutta l'esistenza. È il principio che va oltre la dualità e l'apparenza, e la sua comprensione o esperienza rappresenta il culmine del percorso spirituale. Questa realizzazione comporta un cambiamento radicale nella percezione della realtà, portando alla liberazione dall'illusione del mondo sensibile, moksha. Il concetto di Atman è uno dei fondamenti della filosofia induista. Atman si riferisce al sé o all'anima individuale, ed è considerato l'essenza più profonda e vera di ogni essere vivente. Approfondiremo questo concetto esplorando la sua definizione, la sua relazione con Brahman, le sue implicazioni filosofiche e come viene visto nelle diverse scuole di pensiero dell'induismo. Incominciamo con la definizione di Atman. Atman è il termine sanscrito che indica il sé interiore o l'anima. È l'essenza immutabile ed eterna di un individuo, distinta dal corpo fisico e dalla mente. Atman è la realtà ultima che sottende ogni essere vivente, considerata immortale e indivisibile. Uno degli aspetti centrali dell'induismo è la relazione tra Atman e Brahman. Brahman è il principio assoluto, la realtà suprema e l'essenza universale da cui tutto origina e a cui tutto ritorna. È onnipresente, onnipotente e onnisciente. Secondo le Upanishad, testi filosofici fondamentali dell'induismo, Atman e Brahman, sono fondamentalmente la stessa cosa. La frase tat tvam asi, tu sei quello, esprime questa identità, suggerendo che l'anima individuale, Atman, è in realtà identica al Brahman universale. Realizzare questa identità è il culmine della vita spirituale. Il concetto di Atman ha diverse implicazioni filosofiche profonde. Atman è visto come l'identità eterna di un individuo, che continua attraverso le varie vite nel ciclo del Samsara, nascita, morte e rinascita. La liberazione spirituale, o moksha, è raggiunta attraverso la realizzazione dell'identità dell'Atman con Brahman, superando l'ignoranza, avidià, che li separa. Questo porta alla fine del ciclo del Samsara. Il karma, la legge di causa ed effetto delle azioni, influenza il viaggio dell'Atman attraverso le diverse vite. Le azioni virtuose, conducono a un buon karma, e viceversa. Nelle diverse scuole filosofiche induiste, notiamo interpretazioni leggermente differenti rispetto alla realtà dell'Atman. Vediamole in una essenziale sintesi. La scuola Advaita Vedanta, fondata da Adi Shankaracharya, sostiene la non-dualità, Advaita, e l'identità completa tra Atman e Brahman. Non c'è distinzione reale tra l'individuo e l'assoluto. La scuola Vishishtadvaita Vedanta, fondata da Ramanuja, propone una non-dualità qualificata, in cui Atman e Brahman sono identici, ma Brahman ha attributi distinti. Atman conserva la sua individualità anche dopo la realizzazione della sua natura divina. Infine la scuola Advaita Vedanta, fondata da Madhva, sostiene una dualità completa, Advaita, tra Atman e Brahman. Atman e Brahman sono eternamente distinti, con Atman sempre subordinato a Brahman. Realizzare il proprio Atman è l'obiettivo centrale nella pratica spirituale induista. Questo processo comporta meditazione e yoga. Queste sono pratiche che aiutano a controllare la mente e i sensi, favorendo la consapevolezza interiore. Studio dei testi sacri e riflessione sugli insegnamenti, per comprendere la vera natura del sé. Disciplina etica e morale, per vivere secondo i principi del Dharma, rettitudine, e accumulare buon karma. Per concludere quindi, possiamo affermare che il concetto di Atman è fondamentale nell'induismo, rappresentando l'essenza eterna e immutabile di ogni individuo. La realizzazione dell'Atman come identico a Brahman è vista come la chiave per la liberazione spirituale. Le diverse scuole filosofiche dell'induismo offrono varie interpretazioni di questo concetto, ma tutte riconoscono l'importanza della conoscenza, e della realizzazione del sé, come percorso verso la liberazione finale.